ciao sono Luigi Stintu vengo da casecco di Reno Bologna originario della Sardegna ultimamente ho avuto problemi con i denti tramite facebook ho notato il sito del dottor Martinco a Zagabria mi sono messo in contatto con loro perché avevo problemi e volevo risolvere più presto il mio problema sono stati tempestivamente dare una risposta ho fatto un preventivo tramite loro sono rimasto molto contento sono venuto da loro come vedete ho risolto il mio problema ciao